Suor Faustino Voldasca, la confidente dell'amore misericordioso del Signore, raccontando la visione delle anime del purgatorio, parla degli elementi secondari di sempre, fuoco, luogo, durata, ma nello stesso tempo getta luce su verità più essenziali, cioè le anime del purgatorio soffrono perché lontane da Dio sono confortato nello stesso tempo dalla Madonna. Accompagnata da un angelo, Suor Faustino si avvicina alle anime e chiede qual è la penitenza più grave che voi stato soffrendo e tutte le anime la lontananza da Dio. Non vediamo l'ora di unirci a Dio. E quanto tempo durerà il purgatorio? Non possiamo valutare il tempo, laddove non c'è il tempo, nell'altra vita non c'è il tempo, non c'è il calendario, non c'è l'orologio. Certo il purgatorio più che tempo di purificazione durerà fino alla venuta di Cristo, alla fine del mondo, che seguirà poi il giudizio. Riguardo alla permanenza e alla durata del purgatorio, tutto potrebbe realizzarsi in un istante. Nell'incontro, appena la persona muore e chiude gli occhi alla vita di questo monto, incrocia lo sguardo di Gesù. E in questo sguardo tra la persona che è morta e Gesù vi è il giudizio particolare. E quindi Gesù possiamo immaginare che chiama l'anima, vieni, 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 e l'anima dice no, non posso venire, un po' di pazienza, il mio vestito è macchiato, debbo purificarmi, debbo andare a indossare la veste candida e quindi vado dove è possibile che avvenga questa purificazione e io ritornerò. Ecco, quindi risolviamo in questo modo tutte le domande che ci si mettono ma che non possono avere una risposta precisa. L'opione più comune resta quelle che il purgatorio abbia una durata ma ad ogni modo quando si parla di giorni e di anni non possiamo applicare il nostro modo di parlare circa il tempo. Nel trattato del purgatorio Santa Catarina da Genova afferma questa forma purgativa che vedo nelle anime purgando la sente in me. Cioè Santa Catarina da Genova sperimenta le pene del purgatorio e che cos'è? E' la notte oscura dei santi. Cioè questo tormento, la paura di peccare, di offendere il Signore, di non vedere più il Signore che magari consolava la persona. E questo tormento interiore ma sono ancora accetto a Dio oppure no? Ecco, queste sono le fiamme, il tormento del purgatorio, della purificazione più che del purgatorio. Anche Padre Pio fa l'esperienza della sofferenza purificatrice. Vive la terribile sofferenza della notte oscura. Egli scrive Allorché sono in questa notte io non saprei dirgli se mi trovo nell'inferno o nel purgatorio. Egli è cosciente che Dio lo ama ma dov'è questo Dio? Senza di Lui la vita non ha senso. La vita è una disperazione, è un inferno. Le fiamme dell'amore bruciano e non consumano. Padre Pio si serve dei termini che usano i mistici ma questo modo di parlare è un modo umano di cose che sono dell'aldilà. E quindi questa è la difficoltà. Ma forse l'idea centrale raffigurare la notte oscura che hanno vissuto i santi alla permanenza delle anime nel purgatorio.